bella raga battiamo il lecce 2 a 0 vittoria che ci ridà un po di fiato un po di serenità dopo la battosta presa col bologna anche se per quanto mi riguarda battere 2 a 0 il lecce in casa e fare il compitino che bisogna fare però la partita è stata portata a conclusione abbastanza serenamente stata portata bene alla vittoria senza patemi senza panico generale quindi c'è da essere abbastanza soddisfatti soddisfatti più che altro per la classifica che ci rivede nuovamente al secondo posto in classifica solitario e qui vorrei anche fare delle piccole analisi no perché vedi quando io vi dico che i commentatori vi prendono per il culo quando dico che l'inter è più forte non fatevi ingannare dalla pressione mediatica che c'è sempre sull'inter lo notate anche da queste cose perché tu vedi il milan come è stato trattato ultimamente ed è dietro di noi fuori anche dalla coppa italia ha perso anche la supercoppa contro di noi e vedi come trattata la juve no e vedi come siamo trattati noi poi lascia perdere lasciate perdere i ragazzi che ce le meritiamo anche per le figure di merda che facciamo certe volte però con noi si è di una precisione di una cattiveria di una inflessibilità unica ma va bene cioè ci sta siamo abituati a questo non è niente niente di nuovo niente di speciale nella partita di oggi molto bene come al solito lautaro un cecchino ormai poche occasioni ma comunque riesce sempre a impiozzarla peccato che probabilmente quest'estate sarà il sacrificato perché noi voglio dire ci abbiamo le pezze al culo quindi bisogna pensare così per non rimanerci male perché ragazzi io vi dico una roba vedo gente che ogni tanto ci rimane male quando va via quello va via quell'altro io dai tempi di ronaldo in poi non mi affeziono più a nessuno già ce l'ho rimasto male quando era andato via matteus poi ci sono rimasto male quando è andato via ronaldo quando è andato via anche ronaldo detto a posto io male non ci resto più se qualcuno va via per cui non ci rimanete male preparatevi perché un cecchino come lautaro in europa club come il paris san germain in manchester city di farà gola però noi ragazzi detto questo dobbiamo pensare al presente senza andare troppo avanti con la testa il presente dice che siamo al secondo posto e che evidentemente tutte le altre hanno fatto cagare più di noi no perché noi abbiamo fatto un po cagare visto anche nel confronto con napoli che ha fatto una stagione esagerata con spalletti però risultato è questo sapete cos'è che io c'ho il dubbio e qui voglio dirvelo sto dubbio voglio parlarne con voi di questo io c'ho il dubbio che simone zaghi è un buon allenatore con dei limiti che si ritrova una squadra limitata cioè tu c'è un allenatore buono ma che ha dei limiti evidenti perché è monocorde ottuso nel suo 352 però gli stai dando anche una squadra che in campo ha poca varietà sapete ve l'ho detto mille volte il problema del dribbling il problema del cambio di passo sul breve il problema della velocità in generale degli 11 giocatori messi in campo no quindi secondo me potremmo con due tre giocatori di un certo livello potremmo fare molto meglio no adesso dico va bene non ci abbiamo una lira però mettiamo il caso che potesse arrivare uno come nabi keita centrocampo che a passo a gamba uno come pavardi in difesa per andare a sostituire screener che può anche giocarti esterno da quinto uno come turam davanti del monkey glassback che comunque sia c'è il dribbling lo scatto sul breve la fisicità sai com'è magari in capo le cose si potrebbero sviluppare diversamente perché c'ho un po questo dubbio e c'ho un po questo dubbio perché non vorrei buttare il bambino con l'acqua sporca allora al confronto con napoli quest'anno siamo stati pessimi però metti caso che il napoli non faceva questa stagione esagerata noi ti caso avesse fatto dieci punti più che ci poteva stare eravamo ancora in corsa per il campionato abbiamo vinto la supercoppa siamo alle semifinali di coppa italia e abbiamo passato un gran girone in champions league quindi c'è da ragionare bene c'è da ragionare bene a fine stagione soprattutto c'è da cercare di conquistare a tutti i costi i quarti di finale che per le nostre casse sarebbe ossigeno puro no quindi ragazzi è un po da ragionare la situazione dell'intero un po da vedere però ognuno avrà il suo pensiero ognuno avrà il suo punto di vista e questo ci sta questo è il mio punto di vista in questo momento sono un po confuso ho bisogno di vedere come va a finire col porto e anche come va a finire con la juve in coppa italia potrebbe spostare un po gli equilibri dei giudizi perché sono partite importanti ovviamente 20 volte più importante quella col porto però anche quella con la juve emotivamente può spostare molto detto questo ragazzi l'obiettivo rimane solo uno a cercare di arrivare fra le prime quattro tornare in champions league e mantenere questa continuità di rendimento e poi chissà e poi chissà quest'estate vediamo un po cosa verrà fuori ma adesso dobbiamo pensare al presente perché ci sono cose troppo importanti in gioco e gustiamoci questa vittoria vediamo cosa fa la roma contro la juve e come sempre bella raga per me c'è solo l'inter